34esima edizione per il Rally della Lanterna, quest'anno verrà illuminata l'estate della Val Daveto, cambia la data, resta immutato il fascino di una classicissima. Sì, il Rally della Lanterna ha confermato il format dello scorso anno dopo il grande successo che abbiamo avuto in questa prima fantastica edizione tutta in Val Daveto. Abbiamo deciso in comune accordo con la popolazione della Val Daveto e le amministrazioni locali che ci supportano di portare la gara nel pieno dell'estate e farla diventare l'evento principale dell'estate della Val Daveto e dell'entroterra genovese. La gara avrà delle piccolissime modifiche rispetto all'anno scorso, toccherà anche la provincia di Piacenza con una prova speciale sul territorio del comune di Ottone, ma la nostra politica è comunque quella dei piccoli passi, delle piccole migliorie e non quella degli stravolgimenti, perché crediamo che il Lanterna, nonostante si sia fatta solo un'edizione in Val Daveto, abbia già raggiunto una maturità per cui non c'è bisogno di stravolgere la manifestazione. Quale in definitiva è il programma dei due giorni e quali è anche l'aspettativa di partecipazione? Dopo i più di cento iscritti dell'anno scorso ci aspettiamo e speriamo che ne arrivino di nuovo tanti, però non sarà facile replicare quel grande successo. Essendo in mezzo all'estate e un po' più lontani dal periodo delle ferie, per gli italiani forse ci si potrà avvicinare a quel numero. Che dire, noi ce la mettiamo tutta per cercare di far arrivare gli equipaggi, è anche vero che la Val Daveto offre un ambiente molto accogliente e tanti equipaggi, soprattutto quelli che vengono da fuori, ne approfittano, si portano alla famiglia, fanno qualche giorno di vacanza in più e questo è un bellissimo esempio di collaborazione tra il rally e la promozione del territorio da parte degli enti locali che utilizzano il rally proprio come veicolo di promozione per promuovere il territorio e per fare lavorare l'indotto. Anche per gli organizzatori che si impegnano in questa attività i tempi non sono facili, una volta le sponsorizzazioni erano molto più frequenti, erano molto più, elargivano più quattrini, oggi invece anche l'attività sportiva è abbastanza condizionata, quindi ancora più meritevole sia per gli organizzatori sia per i partecipanti per il loro impegno. Grazie.